Buongiorno, sono Massimo Bargiacchi e sono il presidente di Gesticon, che è un'associazione di amministratori immobiliari e condominali. Vi chiedo un minimo di attenzione, anche se parlo di condominio, e forse è la prima volta che in un'assemblea FIAIP interviene un rappresentante degli amministratori condominali. FIAIP che ringrazio ovviamente per avermi invitato a questa assemblea di metà mandato e ringrazio in particolare la dirigenza con la quale collaboro da tempo per lo sviluppo, devo dire condiviso di molte attività, alcune obbligatorie, altre opzionali che peraltro ci vedono in perfetta sintonia. Il ruolo dell'amministratore è radicalmente cambiato negli ultimi anni, sia per l'evolversi della giurisprudenza in materia, poche erano le norme e poche sono le norme che riguardano la vita condominiale, mentre tanta è la giurisprudenza che negli anni si è formata, ma soprattutto è cambiato con l'entrata in vigore della legge 220 del 2012 che va comunemente sotto il nome di riforma del condominio. Una di queste norme, mai neanche ipotizzata prima di questa riforma, e cioè l'articolo 71 bis delle norme di attuazione del Codice Civile, prevede che l'amministratore per svolgere la propria attività debba frequentare corsi di aggiornamento periodico che il successivo decreto 140 del 2014, emanato proprio allo scopo di dare esecuzione a quello che prevede il Codice, ha previsto in 15 ore annuali e un superamento del relativo esame di fine corso. Questo decreto ha anche indicato in modo analitico quelle che devono essere le materie trattate, diritti reali, parti comuni, norme fiscali, sicurezza nei cantieri e nel condominio stesso, la contabilità, con particolare riferimento al rendiconto condominiale, che poi è la vera cartina al tornasole della gestione, non solo contabile, ma dell'attività complessiva dell'amministratore. La mediazione, intesa come mediazione preordinata ad eventuali azioni legali, non mediazione immobiliare, gestione dei conflitti e così via. E' questo comunque un argomento di grande interesse per chiunque voglia intraprendere o svolgere la professione. Ed è proprio in questa ottica di collaborazione che Gesticon e Fiaip hanno stretto un accordo e una convenzione per l'organizzazione anche di questi corsi di aggiornamento professionale. Di questo risultato devo ringraziare, cioè di questo accordo devo ringraziare in modo particolare il vostro vicepresidente, delegato proprio ai rapporti con Gesticon. Tornando velocemente alla riforma del condominio, permettetemi un paio di temi, un breve commento. Gesticon ha partecipato alle varie fasi dello sviluppo che poi ha portato alla formulazione definitiva della legge e ha sempre proposto di rendere il condominio un soggetto giuridicamente autonomo, dargli quindi quella capacità giuridica che avrebbe qualificato in modo inequivocabile la figura dell'amministratore. Purtroppo non ci siamo riusciti e non ci siamo riusciti nonostante la riforma del condominio si sia fatta aspettare 70 anni. In effetti se ne dovranno passare altri 70 chissà che cosa ne succederà. A livello europeo i rapporti nell'ambito del condominio sono impostati in maniera completamente diversa in molti Stati europei rispetto a quello che è la situazione italiana. Due parole ancora su Gesticon e poi concludo il mio brevissimo intervento. Gesticon è un'associazione di amministratori che è stata costituita 10-11 anni fa ed è nata per la necessità di istituire un'associazione che potesse rispondere all'esigente da parte dei propri mandanti ovvero i proprietari di case, di appartamenti, di immobili in genere e che potesse essere intermediatrice di una cultura che le continue leggi che vengono emanate in materia dai legislatori rende praticamente obbligatoria. Gesticon aderisce a Confedilizia proprio come FIAIP e forse questa è una vicinanza che ha reso possibile, che rende possibile anche la mia partecipazione oggi a questa assemblea di fine mandato. E Confedilizia ha giudicato che i principi ispiratori dell'associazione fossero in linea con l'esigente dei proprietari di immobili e in effetti ha manifestato a noi a più riprese l'intenzione di schierarsi a sostegno di questa nuova realtà associativa sul presupposto proprio che l'esistenza di amministratori affidabili soggetti ad un preciso codice deontologico e organizzati in una struttura moderna possa rispondere pienamente all'interesse delle decine di migliaia di associati e di proprietari di case. Il compito dell'associazione è sempre stato, ancora prima che venisse emanata questa legge 220, è sempre stato quello di promuovere l'immagine e la qualificazione professionale dell'amministratore, attivandosi in tutti i modi per dare una dignità ad una professione spesso criticata, spesso vituperata, organizzando incontri, dibattiti e corsi di formazione, anche per condomini, anche per proprietari di case. Perché se è vero che l'amministratore è soggetto ad una serie di attività oggi per il proprio aggiornamento, è altrettanto vero che i condomini molto spesso non sono in grado di recepire questi messaggi per una incapacità proprio congenita, per una mancanza di cultura congenita nei rapporti condominali. L'associazione consapevole delle difficoltà interpretative delle numerose leggi che disciplinano il condominio si prefigge, come dicevo, di dare tutti gli strumenti necessari che consentano all'amministratore condominiale immobiliare e ai condomini di operare con maggiore responsabilità e competenza, ma allo stesso modo con un prestigio e una dignità nell'ambito della sua professione, oggi purtroppo molto spesso non riconosciuta. Si tratta di un'associazione, quindi la nostra, che assiste e forma i propri associati con tutta una serie di servizi predisposti all'uopo, ma contemporaneamente vigila sulla professionalità nei modi previsti dalle norme e ne tutela la figura e il prestigio molto più efficacemente, riteniamo perlomeno, di quanto non possa farsi difendendo indistintamente interessi di categoria che spesso sono lontani dalle reali esigenze del professionista. Lo statuto di Gesticon prevede tra le finalità istituzionali dell'associazione quelle di fornire a tutti gli associati, attraverso un proprio centro studi e formazione, strutture organizzative e strumenti scientifici idonei a curare la determinazione dei livelli della loro qualificazione professionale, quella di compiere quanto necessario per l'aggiornamento degli iscritti attraverso corsi periodici di formazione di perfezionamento e quella di rilasciare a tutti i propri associati attestati di formazione professionale soggetti a verifica periodica. Lo statuto di Gesticon impone ai propri iscritti, proponendosi di verificare con adeguati strumenti che ciò avvenga, il rispetto di un codice deontologico che, al fine di rispettare le prescrizioni delle norme europee, viene integralmente assunto nello statuto così da formare una parte integrante ed essenziale. Questo codice deontologico, oltre a conformarsi alle linee ispiratrici della riforma dell'istituto condominiale, tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia e dell'esperienza professionale maturata in tanti anni di attività dei soci fondatori. Accanto ai doveri nei confronti dell'associazione dei colleghi, lo statuto enuncia espressamente e analiticamente i doveri degli amministratori nei confronti dei propri mandanti, dei proprietari di case, quali, per esempio, ma solamente per citarne alcuno, quelli di evitare il più possibile situazioni comportanti conflitti di interesse, quello di curare con la diligenza massima la tenuta dei registri e della documentazione condominiale in genere, quello di dotarsi di congrue garanzie assicurative e fideusorie. La nostra associazione nasce con una convinzione profonda che il tema del buon comportamento del professionista sia uno degli elementi che ne possono supportare il successo. Quali siano questi contenuti del buon comportamento sui quali porre l'attenzione per evitare facili affermazioni di principio, poi prive di contenuto, e per affrontare le continue nuove frontiere, le sintetizzo in alcuni punti. Il primo è costituito dalla competenza e dal continuo aggiornamento professionale. Nessun professionista può essere sereno, propositivo e porsi come problem resolver nello svolgimento del proprio lavoro se non è padrone degli elementi fondamentali del lavoro stesso. Per un amministratore condominiale la conoscenza degli aspetti normativi, sia di natura civile, sia di natura penale e di quelli regolamentari, assume una rilevanza cruciale anche in considerazione della praticamente infinita numerosità delle fattispecie che possono presentarsi e della significativa, ahimè tutti lo sappiamo, tendenza al condensioso che investe il comparto nel quale noi operiamo. Per questo motivo si richiede, anzi si obbliga ai nostri associati, percorsi sistematici di formazione professionale con l'obiettivo di coniugare la formativa esperienza con il continuo aggiornamento professionale. Un secondo elemento è la cultura del servizio. Le competenze professionali rimangono un bagaglio di scarso utilità se non sono accompagnate dalla consapevolezza che la buona organizzazione dell'attività professionale, orari di apertura ufficio, tempestività negli interventi, facilità di contatto, effettuazione operazioni, chiarezza nelle rendicontazioni e via di questo passo, rappresenta un processo e non solo un obiettivo che quotidianamente occorre affinare. In tale contesto assume particolare rilevanza la selezione dei fornitori che costituisce un momento più che significativo e delicato della nostra attività, momento che sistematicamente deve essere monitorato per far sì che la qualità del servizio richiesto risulti in linea con le aspettative. Terzo e ultimo elemento, che può sembrare un'affermazione ovvia ma molte volte non lo è, è il rispetto della legge. La nostra associazione, mentre da un lato ritiene del tutto incompatibile con l'appartenenza all'associazione stessa che assume comportamenti contro l'Egem, sottolinea e ribadisce come il tema dell'attenta organizzazione dell'attività e della formazione anche dei collaboratori dei nostri uffici rendano progressivamente meno rischiosa la possibilità che vengano infrante norme di legge e regolamenti. Grazie allo statuto nostro al passo con le normative a rompe, cerchiamo di dare risposte positive e concrete all'esigenza avvertita ormai da tutti di adeguare il condominio e la figura dell'amministratore a una società molto diversa da quella dell'epoca in cui la disciplina condominiale è stata inizialmente emanata. E al tempo stesso vogliamo essere uno strumento di chiarezza e fonte di rinnovata fiducia nei rapporti tra amministratori e amministrati, contemperando l'esigenza di rispetto delle esigenti professionali degli uni con le necessità degli altri per poter contare su una gestione seria, onesta e professionale dei propri peni. Esigenze entrambe meritevoli di tutela, ma che non possono essere certo garantite dall'istituzione di nuovi albi o registri, che costituirebbero forse solo apparati burocratici e poco liberali, oltre ad essere anacronistici in quanto contrastanti con le impostazioni dell'Unità Europea. Gesticond è pronta ad accogliere tutti i professionisti che sentono questa esigenza come punto di riferimento nuovo, speriamo diverso per la propria attività, che potrà fare di loro nel prossimo futuro una categoria rispettata e riconosciuta nella sostanza prima che nella forma. Io mi auguro che la collaborazione con FIAIP possa proseguire fruttuosa sui binari e sui canali nei quali è già stata organizzata, perché molti agenti immobiliari, io peraltro sono a mia volta iscritto, un associato FIAIP, molti degli agenti immobiliari oggi hanno anche un'attività, seppur parziale, di gestioni condominali. Io vengo da Genova e soprattutto nella nostra riviera, gli agenti immobiliari sono quasi sempre anche i gestori dei condomini nei quali molto spesso poi hanno la loro attività di mediazione. Io mi fermo qui, vi ringrazio molto per l'accoglienza che mi è stata data e spero ancora che veramente tutto questo sia fuoriero di una proficua collaborazione fra le nostre due associazioni. Grazie ancora.